lezioni afghane è il titolo del nuovo volume di limes prendiamo il caso afgano per capire quali possono essere i suoi riflessi e lo facciamo a partire evidentemente da considerazioni prettamente geopolitiche ciò che purtroppo in italia è mancato in queste settimane in cui anche giustamente si è sottolineato il dramma umanitario ma si è perso un po di vista un fatto fondamentale cioè che questa guerra l'abbiamo persa anche noi per certi aspetti direi soprattutto noi certo l'america non ha fatto esattamente una figura brillante i costi reputazionali della sconfitta afghana a mio avviso sono e saranno visibili e notevoli ancora per lungo tempo ma insomma noi abbiamo partecipato a questa impresa non abbiamo la potenza dell'america e forse più di altri paesi siamo corresponsabili di avere dipinto la missione afghana come una missione di carattere umanitario redenzione di un popolo oppresso le cose erano e sono piuttosto diverse per vent'anni prima gli americani poi altri paesi europei della nato poi altri paesi ancora hanno schierato migliaia e migliaia di uomini sul teatro afgano e poi ce ne siamo andati un po tutti con la coda fra le gambe un aspetto fondamentale da indagare che qui accenniamo riguarda ovviamente la situazione anche degli apparati americani cioè quello che è successo anche sotto il profilo logistico fa pensare sul grado di efficienza e coesione degli apparati di una potenza così importante abbiamo poi cercato di dare una chiave più ampia al numero dato che intorno all'afghanistan peraltro si sono sempre concentrate attenzioni di altre potenze quindi allargando il discorso alla questione marittima su cui a trieste avremo dal 18 al 19 fra l'altro un incontro internazionale e cioè la competizione intorno ai mari asiatici indo pacifico che arriva fino al mediterraneo e che oggi dovrebbe riportare l'italia dai discorsi vaghi dai discorsi puramente umanitari alla realtà geopolitica di essere tornato paese di frontiera fronteggiando via stretto di sicilia un'area turbolenta in cui sono ormai entrate tutte le maggiori potenze tra cui la russia grazie a tutti Grazie a tutti.